V-LOG. Oggi è questo l'argomento del video e se sapete che cosa sono i blog, gli articoli dei blog, i V-LOG sono articoli, cose descrittive, racconti, storytelling messi in video giornalieri, settimanali, mensili, chi più ne ha più ne metta e la durata conta poco. L'importante è che si racconti qualcosa. Oggi condividerò con te i nove V-LOG che a me piacciono di più e che trovi su YouTube. Tra qualche secondo ti dirò anche perché e che criteri utilizzo per stabilire se un V-LOG mi piace o no, perché l'amore a quei V-LOG per me è stato un po' travagliato. Inizialmente non me ne piaceva nessuno, poi ho capito quali erano i miei gusti e effettivamente ci sono dei V-LOGGER pazzeschi in giro per il mondo. Però gli ultimi tre sono anche italiani, quindi c'è anche qualcosa in Italia. Prima di iniziare, come sempre ti ricordo Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia. Abbiamo superato abbondantemente i 700 iscritti alla parte completamente gratuita, dove trovi anche gli estratti dei contenuti che poi sono in esclusiva per chi è iscritto al piano viaggiatore e esploratore, ma l'obiettivo per la seconda parte di questo 2022 e poi anche per il 2023 è quello di cominciare a organizzarci per trovarci l'anno prossimo in diversi eventi, perché è quello che ho sempre, io e Silvia abbiamo sempre voluto fare, cioè quello di organizzare qualcosa al di fuori dei social media per poi trovarci fisicamente. Ecco, questo è l'obiettivo. Intanto comincia a iscriverti alla parte completamente gratuita. Ripeto, sono già 700 e oltre le persone già iscritte. Link qui sotto in descrizione ed è completamente gratuito. Allora, prima di cominciare a farti vedere questi nove canali YouTube, che sono vlog sostanzialmente, che hanno cadenza e di pubblicazione completamente diversa uno dall'altro. Ho detto che di questi nove sei sono stranieri e tre sono italiani, gli ultimi tre sono italiani, ma quali sono i vlog che piacciono a me? I vlog che piacciono a me sono i vlog che raccontino qualcosa, che mi insegnino qualcosa, che mi mostrano la cultura del posto. Non mi frega niente di vlog con dei droni, non mi frega niente se non mi fai vedere delle cose dall'alto, anzi mi stufano le dronate. Scusate se c'è qualcuno che ama i droni, ma per me è proprio l'antitesi del vlog, il drone. È proprio lontano da luce da ciò che piace e mi intrattiene. Quindi non seguo quasi mai vlog che utilizzano droni, perché mi stufa dopo due secondi. Questa è la logica. Per me è assolutamente personale. Detto questo, devono raccontare qualcosa, ma non devono essere documentari. Non devono essere documentari, ci deve essere il punto di vista dell'autore, ci devono essere le cazzate che fa l'autore o l'autrice. Insomma, deve essere vero, un vlog vero. Può essere un vlog di cibo, può essere un vlog di viaggio puro, può essere un vlog misto, che vedremo ce n'è uno pazzesco, che è misto fra vlog di giornaliero e ASMR. Insomma, è pazzesco. Ve lo farò vedere. Insomma, ci sono tante discriminanti per quanto mi riguarda, ma non mi interessano i vlog ridicoli, non mi interessa il vlog prettamente documentario, cioè nel senso, sono andato lì, ho fatto questo, sono andato là, ho fatto quell'altro, sono andato lì, ho fatto quello. Se dovete andare lì, spendete 5 euro, se dovete andare là, spendete 8 euro. A me non serve a niente, sono informazioni che trovo su una guida, sono informazioni che trovo sul sito dell'ente del turismo e mi frega veramente poco se me lo dice il vlog. Mi piace il vlogger che mi racconta una storia, che mi racconta, non so, la storia del pescatore, mi racconta la storia di un paesino che sta visitando e lo vede e non tacce nulla di quello che vede. Ecco, questo mi piace, questo mi piace parecchio. Premessa anche troppo lunga, cominciamo con il primo, che adesso ti mostro i canali, facendovi vedere direttamente. Io mi faccio piccolo piccolo nell'angolo in basso a sinistra. abbiamo Drew Binsky. Allora, di tutti i canali mi sono scordato di dirti che ti darò, te li faccio vedere, quindi li seguo, mi piacciono un sacco, ma ti dirò anche qual è la piccola cosa che non mi piace, perché non tutti i canali sono perfetti per il mio modo di vedere, neanche il mio lo è e lo sarà mai, quindi accetto tranquillamente le critiche. Drew Binsky è difficile criticarlo, perché Drew Binsky è forse il vlogger più famoso al mondo di viaggio, parliamo di un tizio che ha 3,27 milioni, di iscritti nel 7 di agosto del 2022. Drew Binsky fa video pazzeschi, fa video pazzeschi, ti racconta storie, ogni video è una storia, può essere anche quella in cui lui ha mal di pancia, perché magari è bloccato con la diarrea del viaggiatore, oppure può essere la storia di un paese, come ha fatto a raggiungere un paese che è molto difficoltoso a raggiungere. Insomma, culturalmente, informativamente e a livello di intrattenimento, secondo me, come Drew Binsky, i suoi 3,7 milioni sono lì a dimostrarlo, ce ne sono pochi nel mondo. L'unico difetto che per me ha Drew Binsky è il suo accanimento a misurare a livello numerico tutti i paesi che visita. Non è l'unico, ce ne sono tanti, anzi la maggior parte numera i paesi che visita. Drew Binsky conta 196, 197, 195 paesi visitato numero. A me questa cosa qua mi dà un fastidio pazzesco, perché visitare e viaggiare non è mettere delle bandierine e segnare. E il peggio è che Drew Binsky non le mette le bandierine, per cui è ancora peggio, ha questa mania del contare i paesi perché attira, perché tira, ma la realtà è che a lui non gliene frega, secondo me, più di tanto, perché poi racconta storie incredibili, quindi questo numerare i paesi mi sta un po' sulle palle, devo dirlo proprio chiaramente, però è solo la piccola cosa che ha. Poi per il resto lo abbandona sta cosa qua, quindi fregatemi dei numeri come faccio io, assolutamente. è un vlogger da seguire, se non forse quello più importante al mondo. Il secondo, questo è più piccolino, alterno, a me i numeri, me ne frega anche poco dei numeri che hanno. Questo ha 33 mila iscritti, più o meno come me, quindi di base canali piccolini. Questo è Gary Butler, The Roaming Cook. Questo è un canale che incrocia video di cucina, ma lui non è un cuoco, lui mangia sostanzialmente, e gira il mondo mangiando. Mi piace molto il suo stile, perché anche lui qui non taccia veramente nulla, su cosa gli piace, non gli piace, quando va a mangiare. Secondo me, se uno va a visitare un posto, deve guardare i video di Gary Butler, se c'è stato, perché poi il piccolo difetto è che non viaggia molto, è molto fermo in Asia, quindi lui è distanza a Bangkok, è fermo a Bangkok, e diciamo che l'80% dei suoi video sono su Bangkok. però ultimamente si è anche mosso, si è andato in Vietnam, se non ricordo male, in Laos, quindi si trova dell'altro. Però è molto molto utile, perché se andiamo in quei posti lì, ci facciamo un'idea dove possiamo mangiare, dove possiamo mangiare bene, e cosa possiamo mangiare in quel posto. E sono video lunghi, suoi, a dei video che vanno da 12 minuti a mezz'ora delle volte, e ti fa vedere tutto, non stacca quasi mai la camera quando mangia, quindi la appoggia lì e poi ti parla a ruota libera proprio degli ingredienti che vengono utilizzati, parla spesso con chi fa da mangiare, lui parla bene il tailandese, ad esempio, e quindi riesce a comunicare al meglio. Insomma, a me è un canale che piace, sarà che mi piace molto la zona in cui lui è basato, ma il canale di Gary a me piace un sacco. Ripeto, canale piccolo, perché non stiamo parlando di nessuno di troppo famoso. Numero 3, numero 3, qua torniamo a qualcuno di famoso, Kurt Katz, scusate ma si chiama così, è credo tedesco, lui di origine, il suo canale ha quasi un milione e centomila iscritti, parla in inglese, chiaramente non parla tedesco, e Kurt gira il mondo, e vive esperienze, però fa dei vlog molto molto reali, sono vlog molto lunghi, 30 minuti, 35 minuti, 25 minuti, 57 minuti, insomma, fa dei video interessanti. Ad esempio, è entrato in una favela di Rio de Janeiro e ha filmato, chiaramente con qualcuno che lo portava, come si vive in una favela di Rio de Janeiro, è venuto fuori un video di un'ora sostanzialmente, e non è un documentario, perché lui poi ha fatto anche cose, ha fatto, come si chiama, lotta libera con qualcuno nella favela, sport, eccetera, eccetera, insomma, è molto molto bello, secondo me, come stile di vlog, e non mi stanca mai, quando non mi stancano, io li devo dirlo, devo dire, quindi te lo segno, Kurt, perché a me piace molto, tendono a dire il suo cognome, perché sembra una parolaccia in italiano, però Kurt è veramente valido, lo vedete qui, difetto di Kurt, come poi un altro canale, è figo, anche come ragazzo, è giovane, è figo, e sa di esserlo, e quindi in certe occasioni, diciamo che, possiamo dire che, mercifica un po' il corpo femminile, diciamo di sì, nei suoi video, utilizza un pochino il corpo femminile, per alzare il numero di visualizzazione, non in tutti, ad esempio, come ti ho citato, il video sulla favela di Rio de Janeiro, e la favela Champ, non aveva donne, sostanzialmente, però alcune volte si intrattiene lui stesso, in paesi con ragazze che lo portano in giro, e che stanno con lui in quel momento, e non disdegna lui di mostrarle, ecco, è figo, sa di esserlo, e ha tutti un po' le tecniche, per alzare le visualizzazioni, questi sono piccoli dettagli, perché poi lui fa comunque, secondo me, vlog di altissimo livello, anche qua, siamo a stile di giornalismo, quasi, e non documentario, difficilmente trovate un Kurt, che ti dice, vabbè, quello lì costa 20 dollari, 5 dollari, 10 dollari, sì, te lo dice, però non è quello, te la butta in un discorso, è proprio il vlog, in cui si dice, va, se vuoi fare quell'esperienza, costa 20 dollari, fai questo, fai quell'altro, non c'è, quello lo trovo su una guida, ecco, come ho già detto all'inizio. Andiamo avanti, numero 4, spagnolo, Cesar Blue, scritto Cesar Blue, Cesar Blue, a me piace perché, diciamo che, è un vlog di cibo, lui cosa fa, gira la Spagna, tutta la Spagna, e mangia nei ristoranti, sostanzialmente, il suo canale, è un trip advisor, dei ristoranti, però, è lui il trip advisor, cioè, nel senso che, è lui che prova il ristorante, in alcuni, è invitato, ma non tacce nulla, e questo mi piace, a volte, se c'è qualcosa, che non gli piace, lo dice, assolutamente, e, soprattutto, nella maggior parte, in realtà, non è invitato, prenota, paga, e quindi, si vedono i conti, alla fine, eccetera, eccetera, e poi, ripeto, a volte, ha dei piatti, che vengono stroncati, veramente, sono video, anche qua, lunghi, sopra i 20 minuti, anche 30 minuti, eccetera, eccetera, non ha difetti, secondo me, questo canale, per quanto mi riguarda, 401.000 iscritti, l'unica cosa, che sembra irreale, ma non è un difetto, perché è così, però, cioè, è invidia la mia, però sembra irreale, è il suo stomaco, cioè nel senso, qui parliamo di un tipo, che non è che va in un ristorante, mangia un primo, un secondo, un antipasto, un primo, un secondo e un dolce, che sarebbe già tanto, in Spagna, no, lui mangia, 7, 8, 10 piatti, e li mangia tutti, perché lui, vedete che fa la scarpetta, alla fine, cioè finisce tutti i piatti, e ce li ha tutti pronti lì, quindi, alla fine mi dice, ma è irreale, e butta via la roba, la realtà è che, è stato provato, che da chi l'ha visto in azione, ha uno stomaco che è fuori di testa, infatti poi fa video anche con altri vlogger di cibo, e sono incredibili, cioè li batte tutti, ma non è un video di sfide, assolutamente, non è un video di sfide che a me non piacciono, in realtà è proprio un video di recensioni, fa vedere anche un po' il luogo, parla anche all'inizio del contesto, dove è inserito il ristorante, la destinazione, eccetera eccetera, senza perdersi in grandi video, in grandi immagini, però un pochino di storia della destinazione, soprattutto del quartiere dove è inserito il ristorante, la fa, Cesar Blue a me piace molto, ed è spagnolo, cambiamo un po' lingua, eh? Numero 5, 1, 2, 3, 4, 5, Bold and Bankrupt, Bold and Bankrupt è un altro canale super famoso, 3,6 milioni di iscritti, lui è come descriverlo, lui è non lo so, a me sembra, cioè i suoi video hanno milioni e milioni di visualizzazioni, fa video lunghissimi, non stacca quasi mai la camera, cioè proprio quando riprende, non è un vlog staccato, i droni addio, cioè non esistono proprio per lui i droni, anzi a volte la camera si muove male, sballottola eccetera eccetera, però ti racconta sempre delle storie, non ha difetti a mio avviso il suo modo di avere il canale, il suo modo di raccontare, se vogliamo trovare un piccolo difetto è sempre in Russia, cioè è sempre stato in Russia, ultimamente dovrebbe esserne uscito ed è in altri luoghi, però la stragrande maggioranza del suo canale è Russia, quindi se siete appassionati di Russia non turistica, ma proprio l'antitesi del turismo è il vostro canale e vi racconta storie pazzesche, cioè ha fatto la Transiberiana in un modo incredibile, non era Transiberiana come fanno tutti gli altri, cioè lui aveva tempo e voglia di farla, essere fatta in mesi, mesi, mesi e mesi fermandosi nei posti più assurdi del pianeta, poi ha preso treni allucinanti, ti fa vedere come si dorme nelle stazioni, per cui all'interno delle stazioni ci sono dei piccoli hotel quasi del partito ancora, insomma, è un vlog di un interesse culturale estremo dei paesi, cioè lui è proprio un grande, a volte pensi anche che si metta un po' in pericolo, in certi casi, infatti poi qualcuno dei suoi video, uno dei suoi ultimi video, ha causato un piccolo incidente internazionale, quindi ok, è quasi un giornalista in incognito, anche se non è un giornalista, però ti racconta tanto e tanto di più, e molto di più dei giornalisti odierni, quindi bold and bankrupt, è bold e pelato come me, quindi mi piace anche per quello, però ha un filo più di iscritti nel canale, e lo invidi un po' per come lo racconta, perché mi piace un sacco, lui è veramente un genio, assoluto. Prima di continuare, prima di continuare, torno un attimo sul mio faccione, perché ti dico che se ti sta interessando, ti sto aiutando, e i video che faccio ti da un lato interessano, aiutano o divertono, puoi sostenere il progetto Via Giovero, con una piccola donazione, con il pulsante grazie che trovi qui sotto, oppure abbonandoti al canale YouTube di Via Giovero, alla enorme cifra di 0,99 centesimi al mese, neanche il costo di un caffè al mese per te, per noi invece è tanto, perché con una piccola donazione, o con l'abbonamento, se siete in tanti, i vantaggi sono tre, e sono miei e vostri, cioè miei, perché riesco a dedicare sempre più tempo, al canale YouTube di Via Giovero, sono di tutti e due, perché riesco a rispondere più, alle vostre richieste, e numero tre, riesco a fare più video, e aiutarvi di più, insomma, sono tre o quattro vantaggi, che secondo me, con una piccola donazione, possono essere raggiunti velocemente, altro modo per supportare, il progetto Via Giovero, è il canale Telegram delle offerte, Via Giovero le offerte, è gratuito il canale, e passo quattro o cinque offerte al giorno, lì sopra, che possono andare da voli, hotel, esperienze in città, valigeria, zaini, oggetti viaggio, calze per fare trekking, di tutto e di più, trovo qualcosa in offerta, e spesso e volentieri la compro prima io di voi, e poi magari passo lì, il link per le offerte, link per l'offerta, che può essere un link Amazon, quindi io ci prendo qualche centesimo, in questa maniera, a voi non costa niente di più, anzi di segnare l'offerta, ci cliccate, avete trovato l'offerta, risparmiate, e io ci prendo qualche centesimo, e questo sostiene appunto il progetto Via Giovero, quindi canale Telegram delle offerte, e o appunto donazione e iscrizione all'abbonamento, continuiamo, 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 eravamo arrivati a Bold and Bankrupt, continuiamo con il 1, 2, 3, 4, 5, il 6, Danny, go world to see, Danny, go world to see, travel health mindset, il suo sottotitolo, diciamo che è quello un pochino, meno, meno interessante di tutti quelli che vi dico, però è molto bello come vlog, diciamo che lui è un po' più classico, come ci sono in tanti, però lo fa molto bene, come avevo detto di Kurt, è figo anche lui, e sa di esserlo, quindi fa un pochino l'esaltatino in certi video, però è anche vero che, quello che piace a me di Danny, è che, non è, anzi, sono più le cose non belle che film, ma che le cose belle, cosa intendo, che se fosse un vlogger stravenduto e rivenduto, solo fashion, ti farebbe vedere le 10 cose belle da vedere nelle Filippine, o le 5 cose meravigliose, i 5 hotel meravigliosi, in cui sono, ho soggiornato a, un pinco pallino city, ok, no, lui no, lui no, ti dice, che cosa, vabbè, come puoi stare con tot dollari nel tal posto, ma ti dice anche, ad esempio, real Philippines, cioè nel senso, che cosa c'è, che cosa sono le Filippine reali, perché, è un paradiso, o è un inferno, in alcuni posti, e io sono d'accordo con lui, perché se avete quel video, ti parla anche della prostituzione minorile, ti parla della sporcizia, non è solo bellezze, ecco, perché ci sono, ma non è solo quello, perché ogni posto del mondo, ha un lato turistico, bello, e a volte luccicante, e un lato non turistico, a me piace conoscerli entrambi, e Danny, riesce a fare questo, in maniera, un pochino fashion, a volte un pochino dronata, e per questo, mi, diciamo che, ho detto all'inizio che non li amo, e non li amo, lo ammetto ancora, ma, con lui, chiudo un occhio, perché tutto il resto del contenuto, non mi stanca, anzi, mi interessa, e, ripeto, non tace nulla, e questo, secondo me, è il grande vantaggio di vlog belli, perché i vlog costruiti, a me, non piacciono, se piacciono a qualcuno, boh, non lo so, vabbè, lasciamo perdere, i tre canali italiani, ah, ripeto, questi non sono, non è un ordine di importanza, non è un ordine di importanza, li ho messi giù, completamente a caso, non è un ordine di iscritti, ad esempio, qua, Danny ha 342.000 iscritti, quello di prima, ne aveva 3,6 milioni, abbiamo visto, Drew, che ne aveva, tantissimi milioni, insomma, non è in ordine di, piacere mio, che piacciono a me e non è in ordine di numero di iscritti. Passiamo ai tre italiani, questo è diverso, la strada nel bosco, la strada nel bosco, è un vlog, aspettate che ho lasciato, le scritte, scusate, comunque, vabbè, si vedeva tutto, la strada nel bosco, è un vlog, che incrocia, appunto, il vlog, alla ASMR, quindi parlato trovate poco, è la scelta che hanno fatto, che ha fatto una coppia, di trasferirsi, credo, sull'Appennino Bolognese, se ho capito bene, comunque sull'Appennino, tra l'Emilia e la Toscana, ha deciso di ritirarsi lì, in una casa, che ha la stufalegna, e lui continua a muoversi, perché evidentemente fa ancora, più o meno, il lavoro che faceva prima, e quindi si muove ancora, lei gestisce l'orto, la casa, fa le marmellate, la differenza fra un video ASMR puro, e questo, è che lei si muove, è un vlog, lei va fuori, taglia le piante, quando fa le marmellate, si muove per la cucina, e quindi hai dei punti di vista diversi, però non parla molto, a volte si sente, loro due che parlano, ma quasi a distanza, la loro voce, è quasi, non fosse importante, rispetto alle immagini, lei è bravissima, a utilizzare la camera, è bravissima con le immagini, è bravissima a coinvolgerti in quello che sta facendo, che sia una marmellata, o che sia la creazione di uno steccato, per evitare che i cinghiali, gli mangino i semi appena piantati, è un bel blog, 18 mila iscritti ancora, pochi, 18 mila e cento iscritti ad agosto 2022, secondo me questo è uno dei blog italiani, che spaccherà nei prossimi anni, lei è veramente brava, se continuano su questo livello, secondo me il giro di un anno, avranno molto più di centomila iscritti, garantito, perché uniscono questi due temi, andare a vivere, abbandonare la società, ma vivere in semplicità, senza fare gli sboroni, perché c'è anche chi fa lo sborone, ma in totale semplicità, e unito alla SMR, che è una tecnica, cioè quella dei suoni ambientali, spesso bineurali, che va tantissimo su YouTube. Secondo canale italiano, ve ne ho già parlato un'altra volta, il canale di Marianna, di Marianna Di Micheli, che è una skipper, che è spesso in barcavela, è spesso in Asia, è stata in Asia nel periodo pandemico, ha fatto barcavela l'estate scorsa, sempre all'Elba, ora è stata in Sardegna, è stata ferma qualche giorno, riparte, i suoi vlog sono di lei, del suo mitico gatto Jinjuk, che adoro, vorrei avere il suo gatto Jinjuk, che vive con lei sulla barcavela, scende, sale, è il jolly, è la mascotta di tutti i porti, in cui si ferma, è meraviglioso come gatto, anche lì all'estetico, e anche la sua storia, con la persona con cui sta adesso, la difficoltà di vedersi, quando si vedono, quando lui la può raggiungere, insomma è un vlog interessante, quello che ha di bello Marianna, è che ha sempre il sorriso sulle labbra, è proprio una persona positiva, e questa sua positività, viene portata sul suo canale, io quando guardo i suoi video, al di là del rilassamento, e del divertimento, mi provoca gioia, è un canale ancora piccolo, 26.800 iscritti, però credo che con tutte le visualizzazioni che ha, farà presto a crescere, e secondo me anche qua, nel giro di un anno, se continua a fare video, Marianna spacca, ce l'abbiamo anche iscritta, al gruppo chiuso di Facebook, mi fa piacere che si sia iscritta, perché sono un suo fan, e sono molto contento, e cito il suo vlog, il suo vlog anche qui, Marianna De Micheli. Ultimo, ultimo vlog, è sempre italiano, qua non ha bisogno di prenotazione, di presentazione, abbiamo Beyond the Trip, Angela e Paolo, viaggio a tempo indeterminato, pubblicano tre video a settimana, ve ne ho parlato più volte, ora hanno comprato questo piccolo minivan, e stanno girando, vogliono fare il giro del mondo, con questo piccolo minivan della Piaggio, tre video a settimana, dove raccontano le loro esperienze, fanno anche delle dirette, vivono veramente con pochi euro al giorno, 9 euro, 10 euro al giorno, dipende dai pesi dove sono, 12 euro, 15 euro, ma riducono veramente all'osso le spese, perché per loro, diciamo che la loro priorità è viaggiare, la loro priorità è vivere esperienze, quindi l'ultimo video è anche rispondere agli insulti, perché hanno tanti hater, perché c'è tanta invidia verso di loro, ed è, non è chiara perché ci sia questa invidia, perché come dicono loro sempre, è una questione di priorità, magari loro non fanno tante cose che facciamo noi, che siamo a casa, loro ci rinunciano, perché la loro priorità è muoversi con Piaggio, che è il loro, il loro piccolo van della Piaggio, insomma, sono un canale, secondo me, vero, sono un canale vero, devo fare una piccola critica ad Angela e Paolo, non è una critica, non è una critica, so che magari vedranno questo video, perché ci seguiamo a vicenda, se c'è una piccola critica che vi faccio, ma non lo è, perché conosco i metodi di YouTube, e so che cosa vuol dire, è che negli ultimi mesi, i titoli sono sempre un po' troppo click byte, per i miei gusti, io non amo tantissimo i titoli click byte, secondo me loro non ne hanno bisogno, però purtroppo YouTube ha questo algoritmo malefico, per cui la copertina click byte, il titolo click byte viene premiato rispetto magari a, quello un pochino veritiero, se devo muovere una micro critica, che però veramente è una micro critica inutile, che giustamente loro continueranno a fare quello che vogliono, perché è giusto che sia così, è che all'inizio avevano video un po' meno click byte, perché a volte qualche video ti frega un po', cioè c'è un titolo, poi dopo diventa un po' tutt'altro, o comunque l'argomento del titolo è un pochino secondario, io non amo molto i canali che utilizzano il click byte, ho proprio abbandonato canali che avevo inserito in liste vecchie, perché quelli italiani soprattutto, che ora sono veramente click byte, cioè mi metti un titolo che non c'entra nulla, una foto che non c'entra nulla, per poi andare a non raccontare nulla di quello che è, loro non sono così, per l'amor di Dio, sono leggermente, per qualche video, per qualche video, negli ultimi mesi, un pochino troppo click byte, ma solo questo, cioè ragazzi, vi adoro, li adoro, e continuate, iscrivetevi a Beyond the Trip, sosteneteli, io li sostengo, anche con qualche donazione di tanto, perché credo che sia un bellissimo vlog il loro, 51 mila iscritti, hanno abbassato abbondanzamente i 51 mila iscritti, e secondo me faranno prestissimo anche loro a superare i 100 mila. Un buon viaggio in bocca al lupo ad Angelo e Paolo, e con questo ho concluso, ritorno sul mio faccione per chiudere il video, ti ricordo ancora che puoi sostenere il progetto Viaggio Vero, come ti ho detto prima, non te lo ridico ancora, questi erano i 9 vlog, canali YouTube con vlog di viaggio, che mi piacciono di più, in questo 2022, magari poi nel 2023, qualcuno sparirà, se ne aggiungerà qualcun altro, cambierò idea, non lo so, dipende anche dal momento, questi sono i 9 che mi piacciono in questo momento, ogni tanto mi chiedete, cosa mi piace, cosa non mi piace, eccoli qua, i 9 che al momento mi piacciono di più. Se in qualche modo ti ho aiutato, e questo video ti è piaciuto, pollicioni verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice, se non sei ancora iscritto o iscritta, beh, la faccio una solidente che vedi qui sotto, è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella, che appare subito dopo, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Buona visione di questi 9 vlog, fatemi sapere quale vi piace di più, fatemi sapere quale piace a voi, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Cristiano, di Viaggio Vero.